Il corso di formazione sulle app didattiche innanzitutto chiarirà cosa siano. Come dice il termine, le app didattiche sono dei particolari programmi progettati per tablet e smartphone che hanno una finalità essenzialmente didattica. Rispetto a software specifici per computer tendono ad essere più semplici, più dirette, con un numero limitato di funzioni, ma allo stesso tempo molto più rapide nell'uso e naturalmente usabili in mobilità con gli strumenti che abbiamo detto, tablet e smartphone. Molte di esse sono a pagamento, poiché presentano una versione gratuita con funzionalità limitate ed eventuali funzioni più avanzate a pagamento o tramite la presenza di pubblicità nel software. Come usarle? È difficile fare un discorso unico perché sono moltissime e hanno disparati usi. Innanzitutto bisogna avere un dispositivo mobile, vale a dire un tablet più indicato o eventualmente uno smartphone. Il tablet è particolarmente più indicato per degli spazi tendenzialmente più grandi che offre. È necessario naturalmente installarle, il che vuol dire talora acquistarle. E poi, questo è un aspetto non secondario, è utile fare in modo che i materiali da esse prodotte, pensiamo ad una spiegazione di un determinato passaggio matematico che il docente scrive materialmente sul tablet e quella scrittura viene registrata sotto forma di video, possa essere caricato online per essere naturalmente condiviso con gli studenti perché, inutile dirlo, se questi materiali dovessero risiedere unicamente nel tablet del docente avrebbero un'utilità indubbiamente secondaria. Quali sono i vantaggi? Innanzitutto hanno una grande facilità d'uso, proprio perché presentano un numero limitato di funzioni, in quanto non abbiamo la tastiera fisica, non abbiamo il mouse, quindi dobbiamo gestire tutto con qualche tap di dita. Hanno di norma il vantaggio di essere molto semplici o molto immediati, di renderci operativi in pochi istanti e questo non è un vantaggio da poco, specie per l'uso in aula, in classe. Allo stesso tempo hanno il vantaggio, per la natura stessa dei dispositivi per cui nascono, di essere usate in mobilità, quindi senza la necessità di un pc fisso. Questo rende utile in un contesto classe anche per l'uso eventuale da parte degli studenti, non solo del docente. Un altro aspetto, e questo ha molto a che fare con le politiche scelte tuttavia dalla scuola, possono essere usate dagli alunni se la scuola consente l'utilizzo di smartphone e tablet che talora, specie nel primo caso, per vari motivi viene vietato. Un altro vantaggio è questo, anche nel caso di applicazioni a pagamento parliamo di costi molto bassi, nell'ordine di pochi euro. Parlo soprattutto di applicazioni legate al mondo Android e al mondo Apple. Sempre più frequenti tuttavia sono le applicazioni anche per il mondo Windows Phone, che sta avendo sempre più spazio anche nei dispositivi mobili. Cosa impareremo in questo corso? Innanzitutto vedremo le principali applicazioni didattiche, anche se, ripeto, gli ambiti sono tantissimi e ormai queste sono migliaia. Useremo naturalmente le singole funzionalità di queste applicazioni e impareremo anche a condividere i materiali prodotti. Da aggiungere che per applicazioni didattiche non si intende necessariamente applicazioni per solo tablet e smartphone, ma anche eventuali estensioni del browser, per esempio Chrome, che è il browser di Google, può a suo modo installare al suo interno delle piccole applicazioni allo stesso identico modo in cui si installano per smartphone e tablet. In questo modo potremmo avere gli strumenti didattici dentro il nostro browser, quindi senza necessità di installare particolari e specifici programmi. Cosa è necessaria? Indubbiamente una connessione a internet, in questo caso è pressoché imprescindibile, se non per la produzione dei contenuti, quantomeno per la loro diffusione, cioè per fare in modo che questi contenuti escano fisicamente dal dispositivo mobile che li abbia prodotti. Quindi è necessario un dispositivo mobile. In questo ambito sono più consigliati quelli appartenenti al mondo Android e al mondo Apple, perché hanno un numero maggiore di programmi, o meglio di applicazioni. Per quanto riguarda gli strumenti online, naturalmente ci affaceremo all'Apple Store, che è il luogo dove Apple vende o comunque fa scaricare le proprie applicazioni, l'equivalente di Google, l'equivalente di Android, che è il Play Store, e il Microsoft Store, che è naturalmente il luogo in cui Microsoft diffonde e vende le proprie applicazioni. Il numero di incontri ore in questo caso è molto variabile in base al numero di applicazioni che si vogliono utilizzare e vedere. In ogni caso per un numero significativo sono utili 6 o 9 ore per un totale di 3 o 4 incontri.